Del Veneto Luca Zai, al vincitore del Governance Paul 2019, la classifica sul gradimento degli amministratori, stilata dall'Istituto Demoscopico Noto Sondaggi, è pubblicata sul quotidiano economico Dei il Sole 24 Ore. Il sondaggio, effettuato durante il mese di marzo su 16 regioni, rispecchia anche quelle che sono le tendenze a livello nazionale in vista delle elezioni europee, ha commentato così il direttore Antonio Noto, autore della ricerca. Infatti, il dato politico è che per la prima volta cinque presidenti in cima alla classifica sono tutti appartenenti ad un'unica coalizione, il centro-destra. E' da notare, conclude Noto, che al momento nessuno dei presidenti in carica appartiene al Movimento 5 Stelle. Zai realizza il 62%, con incremento dell'11,9% rispetto al giorno delle elezioni. Al secondo e terzo posto, altri due governatori della Lega, il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, con il 51,1% e Lobardo Attilio Fontana con il 49,2%. Undicesimo posto per il governatore Mario Liverio, che con il 38,1% registra sì un meno 23,3% rispetto a quel 61,2% della sua programmazione nel 2014. Un dato quasi prebiscitario, oggi difficilmente raggiungibile da qualsiasi rappresentante di coalizione, così come attestato negli ultimi anni di elezioni regionali, è in perfetta linea con il quadro generale di un centro-sinistra che sta vivendo nel paese il suo minimo storico. Leggendo i dati dunque in un contesto dove il primo presidente di centro-sinistra, Stefano Bonaccini, dell'Emilia-Romagna, con il 44,2%, a cui suo Enrico Rossi della Toscana, che si stabilizza al 42,6%, e lo stesso governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, neoletto segretario del Partito Democratico, con un incremento del 5,9%, si attesta al 38,8%, è davvero uno scarto minimo. Tanto da definirlo un miracolo, visto, come si precisa nello sondaggio stesso, appesare la vicenda giudiziaria che ha convolto il presidente della Calabria per un presento abuso di ufficio, con anche tre mesi di obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore, annullato dalla Cassazione solo lo scorso 20 marzo. Un quasi 40%, che rappresenta quello zoccolo duro su cui il presidente Oliverio può contare sulla sua ormai ricandidatura e che a conti fatti, ritornato da poche settimane nel pieno delle sue funzioni di governo, non può che crescere, soprattutto perché di quell'impianto accusatorio rivolto alla sua persona è rimasto solo una landa desolata e nulla di fatto.